Buonasera, un saluto caloroso alle autorità presenti e a ciascuno di voi. Oggi è il 29 di ottobre, nel calendario è il giorno della prima memoria liturgica di Rosario Livatino, il primo magistrato laico beato proclamato dalla Chiesa Cattolica. Tra gli omicidi di mafia ad esponenti dello Stato, quello di Rosario Livatino è stato forse uno dei più brutali. Il giudice quella mattina, come ogni mattina, si stava recando da Canicatti, dove viveva con gli anziani genitori ed agrigento, in tribunale, per un'udienza che riguardava il clan dei fratelli terribili, i fratelli ribisi di Palma di Montechiaro, che tra l'altro in quegli anni era un clan che era stato decimato, compresi i fratelli, proprio da una faida interna. Viene speronato da uno a uno, ci sono due killer a bordo che iniziano a sparare, Livatino, buttato sul lato del guardrail, cerca di fuggire, supera il guardrail, incomincia a correre per la scarpata, nel frattempo supergiungono altri due killer su una moto, che lo inseguono, continuano a sparare. L'ultimo colpo lo fa cadere a terra perché ha i polmoni e Livatino li guarda in faccia ai killer e gli dice Picciotti che cosa vi ha fatto? Uno dei due gli dice tieni pezzo di merda e gli spara, ma ormai praticamente è quasi morto, altri due colpi, terribile, un in bocca e un altro sulla tempia per finirlo. Sono ragazzi giovanissimi i killer di Lovatino, sono ragazzi cresciuti in un ambiente di violenza, che cercano il potere di guadagnarsi l'autorevolezza della mafia, sono stigiari, fanno parte di quella nuova mafia emergente in alcune province della Sicilia, nel Ghergentino, nella zona di Gela Caltanissetta e Ragusa, che cerca appunto di scalzare, di guadagnarsi un posto nella compagine criminale. Ecco, nonostante l'efferatezza di quell'omicidio, nonostante lo spessore professionale e la statura morale di Rosario Livatino, la sua storia, la sua vicenda è rimasta davvero lontano dai riflettori per tutti questi anni. E anche quando si è saputo della sua profonda fede, che il suo rigore professionale era nutrito da una grande fede, diciamo che nemmeno nelle nostre parrocchie la sua vicenda e la sua spiritualità è circolata. Nel 1993, non possiamo dimenticare, che arriva in visita pastorale, parte da Trapani, quell'evento, Giovanni Paolo II. Ed è l'anno, il giorno, quel grido, quel tuono proprio fatto con tutto il suo corpo, con le parole dell'Antico Testamento quasi, come se fosse un patriarca dell'Antico Testamento. Ed è Giovanni Paolo II che grida contro la mafia dopo aver incontrato gli anziani genitori di Rosario Livatino a parlare di lui come martire della giustizia e indirettamente della fede. Dopo qualche mese, il 15 settembre, i fratelli Gaviano danno l'ordine per uccidere a Brancaccio il parroco della parrocchia di San Gaetano, Don Pino Puglisi, e viene ucciso un prete. L'anno successivo, sempre nel nostro sud, un altro martire è Don Peppe Diana, è il parroco di Casal di Principe, ha fatto un lavoro molto forte e intenso con i ragazzi dell'Azione Cattolica, con gli scout e con gli altri preti della vicaria, viene ucciso poco prima della messa. e il giorno dopo alcuni giornali della zona titolano che è una storia di donne, quella di Don Peppe Diana. La betificazione di Puglisi prima e adesso il 9 maggio, il giorno del grido di Giovanni Paolo II, una data fortemente simbolica, in qualche maniera aprono una strada nuova per la Chiesa ma anche per la società siciliana. Così dicono i vescovi siciliani che proprio il 9 maggio hanno indirizzato a tutte le nostre Chiese un messaggio di cui adesso Giuseppe Fonte ci fa ascoltare un breve brano. Dal messaggio dei vescovi siciliani per la beatificazione del giudice Rosario Livatino. Dal beato Rosario Livatino, annoverato oggi insieme al beato Pino Puglisi, nella lunga schiera di profeti e martiri del nostro tempo e della nostra terra, impariamo che la santità ha il sapore della speranza che non si arrende, della coerenza che non si piega e dell'impegno che non si tira indietro, perché ogni angolo buio del mondo, compreso il nostro, abbia l'opportunità di rialzarsi e guardare lontano. Oggi intendiamo ribadire l'urgenza di questa conversione, quale eredità congiunta che essi ci consegnano. È l'eredità di chi ha trovato il coraggio della libertà, squarciando il silenzio della connivenza e decidendo di parlare chiaramente, non solo con le parole tecniche mutuate dai linguaggi umani, ma soprattutto con la parola del Vangelo. Da questa consapevolezza dobbiamo ripartire, considerando che in questi trent'anni tante cose sono cambiate, ma non sono ancora cambiate abbastanza. Se sembra finito il tempo del grande camore con cui la mafia agiva nelle strade e nelle piazze delle nostre città, è certo che essa ha trovato altre forme, meno appariscenti e per questo anche più pericolose, per infiltrarsi nei vari ambiti della convivenza umana, continuando a destabilizzare gli equilibri sociali e a confondere le coscienze. Di fronte a tutto questo non possiamo più tacere, ma dobbiamo alzare la voce e unire alle parole i fatti, non da soli, ma insieme, non con iniziative estemporanee, ma con azioni sistematiche. Solo così il sangue dei martini non sarà stato versato in vano e potrà fecondare la nostra storia, rendendola per tutti e per sempre storia di salvezza. Benvenuto a Don Giuseppe Licciardi, teologo, canonista e docente alla Facoltà Teologica di Sicilia ed è il Vicario Generale della Dioce Sidi Cefalu, oltre che parroco, parroco, già parroco, giudice del Tribunale Interdiocesano Sicolo, anche questo già, ancora giudice, ecco. Io seguo su Facebook perché nella parrocchia era molto interessante alcune iniziative pastorali anche innovative. Don Giuseppe, cosa c'è? Noi abbiamo titolato questo incontro un beato sorprendente. Cos'è sorprendente, non solo per la Chiesa, ma anche per la società siciliana, nel riconoscimento del martirio di Rosario Livatino. Ecco, innanzitutto ringrazio, come un signor Fragnelli, il vescovo che è stato mio rettore in seminario, negli anni belli, proprio ieri, ho ricordato il ventunesimo anniversario dell'ordinazione diaconale ed eravamo lì a Roma insieme per vivere quel momento. Grazie poi a Lilli che è stata un po' da collante per questo appuntamento. Anche per me l'invito è stata una sorpresa, parliamo di sorprese. Forse Galeotto è stato un convegno della pastorale vocazionale che all'epoca si tenne proprio nella diocesi di Agrigento sulle orme di Rosario Livatino. Per il tempo che mi è stato così affidato pensavo di rispondere a questa domanda attraverso tre passi che desidero che insieme compiamo. Il primo passo, che poi è una sorta di premessa, qual è il significato della beatificazione di Rosario Livatino. Poi il secondo passo, perché questa beatificazione e la vita di Rosario Livatino ha sorpreso e sorprende noi che in questo momento siamo qui radunati. Poi il terzo passo, quali sono i semi di questa sorpresa nella nostra terra di Sicilia e qual è il futuro verso il quale appunto siamo incamminati. Un futuro che già in qualche maniera con il messaggio dei Vescovi è stato definito. Concluderò proprio con questa frase che è stata appena pronunciata. Andiamo al primo passo, la decisione di Papa Francesco di dichiarare beato Rosario Livatino ha riportato alla ribalta il sorprendente magistrato. Diceva poco fa Lilli è rimasto sconosciuto anche nelle nostre parrocchie e mi colpiva, ho ripreso due documenti della conferenza episcopale siciliana successivi all'attentato, in entrambi i documenti si parla di mafia e nessun riferimento ad esempio a Rosario Livatino. Il giudice siciliano per il suo esemplare martirio è posto alla pubblica venerazione. Questo riconoscimento del culto pubblico, pur essendo un evento ecclesiale è certamente una provocazione per la società e per le istituzioni civili. Livatino viene presentato infatti come modello fecondo di vita cristiana e di impegno civile. La sua storia personale si fa a specchio per tutta la collettività umana. La sua morte è una ferma denuncia contro i mafiosi è una puntuale e forte accusa contro ogni sistema di corruzione che nei suoi protagonisti interessati e collusi con i centri di potere mafioso sta ancora deteriorando in modo assolutamente inaccettabile la promozione umana del popolo siciliano e lo sviluppo della Sicilia stessa. Recenti denunce della magistratura svelano scenari drammatici un uso dell'antimafia di facciata per coprire una fitta rete di ricatti e di affari illegali nomine, appalti, concorsi. Ecco, un magistrato proclamato beato è un evento abbastanza sorprendente e lo è di più, ritengo, che sia accaduto in Sicilia in terra di mafia. Questa iniziativa che insieme stiamo vivendo è certamente un'occasione ulteriore per riflettere criticamente sulla assoluta novità e sulla assunzione di responsabilità che la Chiesa e la società civile sono chiamate a realizzare nel territorio in cui il magistrato è vissuto e ha operato. Però ricordare il giudice Livatino significa porsi alcune domande scomode. Ricordare Livatino significa porsi alcune domande che troppo a lungo sono rimaste taciute. La memoria non deve essere solo un momento rievocativo, commemorativo, celebrativo ma un modo per assumere moralmente e nello stesso tempo riscattare storicamente lo stile di vita del giudice Livatino. La memoria di quel delitto così atroce così come appunto ci veniva ricordato è il ricordo di questo eroe senza tessere silenzioso, coraggioso un eroe che non apparteneva a nessun partito nessun schieramento politico aiutano a far crescere e maturare attraverso gesti dirompenti l'eco del martirio di Livatino nella nostra chiesa di Sicilia dove continuano detto Papa Francesco a presentarsi condotte omertose gestioni di servizi che involvono in strumenti di potere aggregazioni definite cordate finalizzate a far crescere gruppi coalizzati nelle piccole o grandi realtà per gestire il potere o condizionare chi lo esercita. Questo discorso che ho appena letto lo trovate già espresso in una lettera dei Vescovi di Sicilia del 15 maggio del 1996 dal titolo Finché non sorga come stella la sua giustizia una lettera che i Vescovi siciliani hanno pensato nel cinquantesimo anniversario dello statuto della regione Sicilia Allora questa sera siamo qui per dirci che Livatino riscatta la Sicilia e nel riscattare la Sicilia la presenta al mondo non più sotto il solito stereotipo di terra di mafia di terra di sangue ma la presenta al mondo nella luce di terra di martiri e quando noi parliamo di terra di martiri significa vale a dire terra di futuro e di speranza ed ecco il secondo passo perché Livatino ha sorpreso e ci sorprende ecco Rosario Livatino sorprende perché è feriale è la prima sorpresa che questa sera il giudice ci consegna mi sono fatto dare da don Alessandro che conoscete meglio di me gli atti del processo la posizio che ho letto con molto interesse e in tutte le testimonianze è emerso un riferimento alla vita feriale di questo uomo di legge conduceva una vita ascetica sobria riservata nascosta aveva un concetto molto umile di se stesso e nell'esercizio della sua funzione di giudice e magistrato non era un bigotto tant'è che nessuno conosceva la sua fede così profonda né era uno scimunito qualcuno depone né un santocchio Livatino era riservato rigorosamente indipendente e libero e viveva il suo impegno professionale come esercizio della giustizia e come preghiera esistenziale un testimone Giuseppe Palilla depone per lui rendere giustizia e pregare quindi era un servizio all'uomo rendere giustizia significava per Livatino ecco mettersi a servizio dell'uomo partecipava attivamente la domenica all'eucaristia e si intratteneva anche a lungo a pregare vicino al crocifisso anche nei giorni feriali annotava il Vangelo che campeggiava sulla sua scrivania Livatino sorprende perché è feriale Livatino sorprende ecco la seconda sorpresa perché è martire per la giustizia così ce lo ha presentato Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi il motivo della sua beatitudine voluta e riconosciuta da Papa Francesco è scritto nel Vangelo nel Vangelo di Matteo e cioè beati perseguitati per causa della giustizia perché di essi è il Regno dei Cieli è la beatitudine questa che propone una causa vera una causa buona una causa umana e Gesù riferisce questa beatitudine a tutti coloro i quali soffrono a causa della giustizia umana cercata e praticata ecco la morte di Livatino è avvenuta a motivo della giustizia e non strettamente legata in odio alla fede per la stessa causa in Sicilia vi sono stati molti morti ammazzati e non sono stati martiri in odio alla fede il lemma dell'apposizio super martirio della congregazione per le cause dei santi sostiene che Livatino sia stato beatificato secondo la motivazione del martirio in odio alla fede ora qui non vorrei ecco andare contro la mia passione per per il diritto però personalmente ritengo che il formalismo della giurisdizione ecclesiastica è impreciso Livatino è beato a prescindere da quello che abbiamo celebrato è riduttivo se consideriamo la documentazione degli atti processuali che hanno ecco determinato il pronunciamento sul suo martirio il giudice è stato trucidato a causa della virtù della giustizia una virtù che fa riferimento a dio e trova in dio il suo unico fondamento voi sapete che la costituzione divinus perfezionis magister di Giovanni Paolo II del 1983 stabiliva che i processi di beatificazione sono di soliti avviati in presenza di almeno un miracolo nel caso di Livatino il miracolo non c'è stato per cui si fece riferimento al decreto papale sul martirio secondo il quale l'omicidio del giudice è avvenuto in odio alla fede però i martiri della chiesa antica i nostri martiri siciliani Agata Lucia Vito hanno subito il martirio per la loro fede in Cristo e non in odio alla fede e Livatino non appartiene alla tipologia della schiera dei primi martiri non appartiene alla tipologia dei martiri contemporanei perseguitati per il Vangelo né ai martiri missionari morti in terre lontane si può identificare forse il martirio di Livatino con quello di Massimiliano Colbe che muore per gli altri il martirio di Livatino ha un significato totalmente altro un significato nuovo è un martire il cui martirio scaturisce dalla normalità di un vissuto alla luce del cristianesimo la causa ha fatto di Livatino un martire non tanto la pena cui fu sottoposto cioè la causa la giustizia quale virtù cristiana è stata la causa ripeto del suo stesso martiri nella valle dei templi Giovanni Paolo II il 9 maggio del 1993 ha presentato al mondo senza equivoci il martirio di Livatino come testimonianza della grande causa di Dio e il suo assassinio rimane strettamente legato al modo con il quale ha svolto il suo lavoro egli non fece mai ostentazione e nemmeno esplicito accenno alla sua fede che pure lo rese persona capace di vedere la mafia e la sua pericolosità laddove non tutti erano capaci di vederla Livatino fu odiato perché amministrava giustizia Livatino fu ucciso perché perseguiva i reati fu lui stesso ad essere perseguitato perseguitato a causa della giustizia e quindi in effetti evangelicamente è beato e tutti noi lo riconosciamo tutta la chiesa gli riconosce questa beatitudine Livatino sorprende ecco la terza sorpresa perché ha connesso fede giustizia e carità le ha intrecciate tra di loro il diritto era per Livatino l'ideale della giustizia e non uno strumento di potere egli è cresciuto a pane e legalità ha intrecciato appunto fede giustizia carità è stato pienamente evangelico il Cristo non ha mai detto che soprattutto bisogna essere giusti anche se in molteplici occasioni ha esaltato la virtù della giustizia egli invece Gesù ha elevato il comandamento della carità a norma obbligatoria di condotta perché è proprio questo salto di qualità che connota il cristiano giustizia e carità in Livatino combaciano e lui stesso Livatino in una conferenza tenuta al Rotary Club di Canicattì nel 1984 cita Piero Baiardi presidente del Tribunale di Milano proprio su questo tema e dice il sommo alto di giustizia è necessariamente sommo atto di amore se giustizia vera e viceversa se è amore autentico Livatino sorprende perché ha irrigato con il suo sangue la nostra terra di Sicilia per covoni di legalità di cristianesimo autentico Livatino è stato ucciso perché i suoi modi virtuosi e sereni di operare la giustizia davano fastidio l'odio dei capi delle famiglie di Cosa Nostra delle estide di Canicattì e di Palma di Montechiaro e di altri centri dell'agrigentino si fece terrore ai danni di un uomo che sapeva di dover amministrare la giustizia come esigenza intrinseca della testimonianza cristiana la sua morte fu atroce sconvolgente lacerante e ha rappresentato la sua morte paradossalmente lo strumento certamente tragico per svelarci il vero suo profilo di uomo di magistrato di figlio e di credente venne assassinato il 21 settembre del 90 durante un agguato mafioso mentre viaggiava sulla sua auto verso il tribunale di Agrigento e in quel quinquennio è impressionante la guerra che era in corso in quel territorio nel quinquennio 1989 1993 nel solo territorio Agrigentino ogni anno il numero di omicidi oscillava dai 40 ai 60 e il numero complessivo di delitti raggiunse l'impressionante cifra di circa 300 morti l'ivatino sorprende perché interroga la coscienza civile ed ecclesiale quella coscienza civile che era molto in ritardo rispetto alla prevenzione della cultura mafiosa così anche la coscienza ecclesiale nonostante l'elevato numero di morti ammazzati la chiesa siciliana non aveva ancora maturato una riflessione antropologica e teologica sulla mafia e sulla sua irreligiosità non aveva assunto una posizione critica morale sulla sua assoluta inconciliabilità su un rapporto che non deve assolutamente esserci tra il discorso cristiano e gli assunti della mentalità mafiosa il 27 settembre del 1988 nella chiesa di Canicattì Rosario Livatino partecipò ad un altro funerale ai funerali del giudice Antonio Saetta e del figlio Stefano uccisi dalla mafia sulla stessa strada e alla presenza del presidente della repubblica Francesco Cossiga nell'omelia all'arcivescovo Luigi in buon marito raggela tutti con questa domanda chi sarà la prossima vita bravo la domanda appena due anni dopo si sarebbe rivelata non retorica il giudice Saetta è stato il primo magistrato giudicante ucciso in Sicilia e in Italia e sapete perché è stato ucciso in quella strada sulla stessa strada provinciale dove sarà ucciso Livatino perché avrebbe dovuto presiedere il processo a Totorrina e ai capi della mafia di allora e il messaggio che si voleva lanciare era che la mafia non poteva andare a processo il grido profetico di Giovanni Paolo II preceduto motivato provocato dal suo incontro con i genitori di Livatino e con i familiari del giudice Saetta da quel momento aprì per la terra di Sicilia così come è stato appunto ricordato un nuovo percorso circa la consapevolezza della netta antitesi tra Vangelo e mafiosi Rosario Livatino sorprende perché è uomo di fede diceva che l'uomo di fede non può non tenere conto del Vangelo e la sua fede ha plasmato la sua stessa vita di uomo e di magistrato optando per la magistratura Livatino scelse non un lavoro comodo seduto dietro ad una scrivania a leggere carte o a firmarle ma un lavoro di confine ha sostenuto una sfida e una scommessa con se stesso a favore del prossimo e della comunità il dio biblico di Livatino è il dio della giustizia e dell'amore lui stesso in una conferenza dal titolo fede e diritto dice il sommo atto di giustizia è necessariamente sommo atto di amore se è giustizia vera e se è viceversa se è amore equautentico riprende quelle parole chissà gli erano rimaste così impresse che ad ogni conferenza eccole riformula come appunto impegno di vita sub tutela dei sotto la tutela di dio dove la radice del verbo tu e or parla anche di sguardo rosario si poneva sotto lo sguardo di dio perché dio doveva giudicare e per giudicare occorre la luce il 18 luglio del 78 nel giorno del suo giuramento in magistratura annotò nella sua agenda in rosso queste parole che dio mi accompagni e mi aiuti a rispettare il giuramento e a comportarmi nel modo che l'educazione che i miei genitori mi hanno impartito esige ecco in queste parole c'è tutto Livatino è un compendio di Livatino c'è il modello di uomo e di magistrato con le tre parole chiave rispetto giuramento ed educazione e infine il terzo passo perché Livatino uomo magistrato credente continua ancora oggi a sorprenderci e quali sono i semi che cominciano a germogliare dalla sua morte continua a sorprenderci ancora perché non è un santino Livatino non può essere trasformato in un santino in un ideale cioè asettico di virtù religiose che prescinde dal suo drammo umano e dalla realtà sociale nella quale il martirio si è consumato cioè Livatino non è un cadavere da imbalsamare e neppure una reliquia da idrolatrare si presenta piuttosto come scrive padre Bartolomeo Sorge nella civiltà cattolica come un uomo straordinario del nostro tempo della nostra Sicilia giudice educatore di coscienze presenza inquietante nel mondo della giustizia coraggioso estirpatore del seme velenoso della mafia martire martire di oggi martire della giustizia della carità e della fede Livatino continua a sorprenderci perché contrasta con l'inerzia e ci spinge ad una seria riflessione teologica contrasta con l'inerzia e con l'acquiescenza nei confronti della mafia e la sua beatificazione dovrebbe spingerci verso una riflessione teologica sul magistero dei laici secondo la prospettiva del Vaticano secondo vi invito certamente in giro ce ne sono chissà quante altre copie a rileggere questo testo sempre della conferenza episcopale siciliana dal titolo i laici per la missione della chiesa in Sicilia e nel terzo millennio dove si parla anche di mafia e dove si dice qual è il ruolo dei laici anche ecco nei posti di lavoro per combattere i mali oscuri così ecco definisce il testo quelle mafie che sono accanto a ciascuno di noi sono le mafie della porta accanto delle quali tante volte non ci rendiamo nemmeno conto Livatino ci sorprende ancora perché apre il sipario su molti magistrati che hanno sacrificato la loro vita per difendere la nostra democrazia Livatino non è solo è parte di una lunga serie di magistrati ammazzati in Sicilia e in compagnia dei numerosi morti di mafia ammazzati per aver servito la giustizia umana Livatino continua a sorprenderci perché ci rende uomini nuovi uomini dal cuore puro e la cui rinnovata presenza deve essere connotata da due semplici e pregnanti parole evangeliche sale e luce mi pare che giungendo a Trapani campeggia una volta ecco ricordo di aver letto così Trapani è la città del vento e del sale del sale e del vento uomini nuovi significa inoltrarsi nel vasto mare dell'esistenza spinti dal vento dello spirito per dare sapore all'umano il suo sangue che ha amato la giustizia fino a dare la vita per essa sarà seme di uomini nuovi che scelgono il bene come compagno di strada e questo seme è già seme in chi si impegna ogni giorno perché nella nostra terra di Sicilia germogli germogli solo ciò che è buono e giusto cosicché diventi davvero bellissima e non sia solo un semplice slogan politico ad effetto il sangue il sangue versato di Livatino è già seme in tutte le donne in tutti gli uomini che non abbassano la testa alle mafie il sangue di Livatino è già seme in Rosa e Savina Pilliu due sorelle palermitane costrette dall'agenzia delle entrate a pagare una tassa su un risarcimento mai avuto da un costruttore malavitoso è la storia raccontata da Piff e Marco Lillo nell'ultimo libro io posso due donne sole contro la mafia che vi invito a leggere molto interessante è già seme il sangue di Livatino in Pino Puglisi e Peppe Diana e in tutti coloro che sono stati accompagnati da questi sacerdoti è già seme negli eroi solitari siciliani che sacrificano la propria vita contro lo strapotere dei boss e spesso si ritrovano beffati dallo Stato il sangue di Livatino è già seme in Carmela che da 13 anni attende nel quartiere in cui ero parroco a Cefalù dall'Istituto Autonomo Case Popolari una delle quattro case vuote e che ritarda ad assegnare per una burocrazia estenuante il sangue di Livatino è già seme in tanti confratelli e consacrati che scelgono le periferie come luoghi da abitare in vera prossimità andando alla ricerca dei volti dei poveri e mantenendo il loro passo e non palcoscenici da calcare per scatti di carriera il sangue di Livatino sarà seme anche nella nostra chiesa di Sicilia se sceglie di non tacere più ma di alzare la voce e unire alle parole i fatti non da soli ma insieme non con iniziative estemporane ma con azioni sistematiche così scrivono i vescovi nel messaggio per la beatificazione di Livatino di fronte e concludo alla testimonianza sorprendente di una vita meravigliosa quale fu quella di Rosario Rarus Vir in ingurgite vasto possiamo esclamare con Sant'Agostino padre non ti chiediamo perché ce lo hai tolto ma ti ringraziamo per avercelo dato e concludo davvero con quanto i vescovi hanno scritto nel messaggio solo così il sangue dei martiri dei nostri martiri siciliani non sarà stato versato in vano e potrà fecondare la nostra storia rendendola per tutti e per sempre storia di salvezza grazie grazie Don Giuseppe davvero un compendio su Rosario Livatino soprattutto per questo sguardo nuovo davvero interessante sul sul senso del martirio in Sicilia oggi e la memoria si nutre di tanti linguaggi non soltanto delle parole per fortuna forse Salvatore Nacerabracco ha scritto un testo che si chiama La mia scelta Livatino il giudice il ragazzino con cui ho girato anche un po' l'Italia grazie di essere qui con noi ve lo presento brevissimamente perché è difficile presentarlo perché è un medico ma anche un attore un musicista e un cantautore e poi cosa posso dire di te presente di tu io mi chiamo Rosario Angelo Livatino e nella dimensione che voi adesso abitate ho fatto il magistrato adesso nella vostra dimensione io non ci sono più perché sono stato ucciso il 21 settembre 1990 dalla stessa degenerazione che ha ucciso tanti miei colleghi tanti servitori dello Stato carabinieri poliziotti imprenditori onesti vorrei citarli tutti ad uno ad uno ma anche tante vittime innocenti vittime per caso vittime in ogni caso che hanno avuto la sventura di ritrovarsi sulla traiettoria di proiettili non destinati a loro io mi chiamo Rosario Angelo Livatino e nella dimensione in cui adesso mi trovo ho imparato a suonare la chitarra alta sorpresa suonare la chitarra è divertente sapete forse nella vostra dimensione ero abbastanza riservato schivo dicono che non sorridevo quasi mai adesso vi posso garantire che lo faccio sempre l'ho imparato da un prete di brancaccio con il quale ogni tanto scambio quattro chiacchiere è arrivato qui dopo di me e lui mi dice sempre che se ognuno fa qualcosa si può fare molto è sempre sorridendo l'apostolo del sorriso lo chiamiamo qui lo va gridando a tutti basta un sorriso e tutto si trasforma la vera fisica dell'universo basta un sorriso e tutto ci ritorna come una speranza che non abbiamo mai perso e adesso e adesso adesso cari preti che lavorate nel margine nella frontiera nella periferia non disperate perché voi avete un dono che gli altri non hanno voi manifestate il vostro amore attraverso il sorriso e non vi ho ancora detto come si chiama in effetti sì Don Pino Puglisi si chiama sì e anche grazie a lui che oggi posso dirvi con tutta la forza che ho che la vita ha un grande valore soprattutto se la si vive con gioia non c'è bisogno di morire per volare liberi nel cielo ma quale forza devi avere per volare liberi nel cielo quale coraggio ad esibire quanti dubbi è la scelta c'è molto più gusto a sorridere senza il peso di un ricatto conquistare il diritto a scegliere la vita di ogni giorno ogni giorno la vita buongiorno alla vita senza bisogno di morire per essere liberi di volare basta alzare gli occhi e scoprire il tuo cielo e persino imparare ad amare che invece ti insegna ad odiar ad odiar addosare gli occhi ma ovviamente si ha tutti che si si è aspetta e e prima leggi solo Il CSM dopo la sua morte ha calcolato che Livatino faceva il lavoro in procura dove è rimasto dieci anni prima di essere, di diventare giudice, giudice all'atera e poi di occuparsi di prevenzione, di misure di prevenzione, faceva il lavoro di tre magistrati. E' un magistrato che ha un grande intuito e lui che partendo da un'indagine sulle cooperative di Porto Empedocle e su come venivano finanziate dalla regione siciliana avvia quella grande indagine che poi diventerà la cosiddetta tangentopoli siciliana. Le carte della sua indagine arrivano a Catania per il processo ai cosiddetti cavalieri del lavoro, alcune carte arrivano pure qui a Trapani dove è stato ucciso da poco il sostituto Gian Giacomo Sciaccia Montalto ed è arrivato un sostituto nuovo da Trento, Carlo Palermo, che anche lui esubirà dopo un terribile attentato in cui dei nostri concittadini hanno perso la vita, Barbara Rizzo e i gemelli di sei anni Giuseppe e Salvatore Asta. E' sua insieme ad altri PM l'indagine che ha portato al cosiddetto maxiprocesso alla mafia di Agrigento. Lui ascolta e interroga i politici del territorio ed emergono rapporti con mafiosi di calibro, è il primo magistrato in Italia a interrogare un ministro della Repubblica, ma è anche il giudice che a Ferragosto si presenta in carcere con un ordine di scarcerazione. Il poliziotto della Polizia Vitenziaria gli dice scusi non potevo aspettare lunedì che viene a Ferragosto e lui risponde no perché questa persona non deve fare un giorno di carcere in più. E' il magistrato che si raccoglie in silenzio in preghiera davanti ad ogni salma che una volta rimprovera un operatore di polizia giudiziaria. In quegli anni anche Don Giuseppe ci ha dato proprio i numeri di questa terribile faide per cui i morti non si contavano. E sul luogo di un omicidio l'operatore di polizia giudiziaria dice vabbè è uno di loro, non ma la carne. E Libertino lo rimprovera perché dice di avere rispetto perché anche quel mafioso li ha ucciso è una persona umana che merita rispetto. Pensando alle parole che avevi citato tu le prime è il giudice che fa la fila alla posta o che appunto quando si apre il maxiprocesso il cronista chiede di fare una foto di tutti i magistrati che hanno condotto erano quattro e dice no, non siamo qui per parlare di noi né per fare parlare di noi, siamo qui per rendere giustizia e non fa la foto. D'altra parte nella sua carriera non ha mai rilasciato nessuna intervista. È davvero sorprendente. Ecco, anche sono pochissimi testi che ci ha lasciato, ne ha citati alcuni così anche Don Giuseppe Licciardi. In particolare, proprio una relazione, quella al Rotary di Canigatti del 1984, è una relazione in cui traccia, sono passati tantissimi anni, diciamo il suo identikit del magistrato nella società. Noi ne ascoltiamo un brano che ci legge Don Francesco Pirrera, Don Francesco è il cappellano della casa circondariale di Trapani ed è, come dire, un appassionato di giustizia riparativa, diciamo così. Da alcuni anni ha aperto le porte della sua canonica, della sua casa, dove accoglie ex detenuti, spesso la maggior parte sono immigrati, anche di diverse fedi. Don Francesco. Dalla relazione di Rosario Levatino, il ruolo del giudice nella società che cambia, tenuta il 7 aprile del 1984 presso il Rotary Club di Canigatti. L'indipendenza del giudice, infatti, non è solo nella propria coscienza, nella incessante libertà morale, nella fedeltà ai principi, nella sua capacità di sacrificio, nella sua conoscenza tecnica, nella sua esperienza, nella chiarezza e linearità delle sue decisioni, ma anche nella sua moralità, nella trasparenza della sua condotta, anche fuori delle mura del suo ufficio, nella normalità delle sue relazioni, delle sue manifestazioni nella vita sociale, nella scelta delle sue amicizie, nella sua indisponibilità ad iniziative ed affari, nella rinuncia di ogni desiderio di incarichi e prevende, specie in settori che per loro natura possono produrre il germe della contaminazione e il pericolo dell'interferenza. L'indipendenza del giudice è, infine, nella sua credibilità, che riesce a conquistare nel travaglio delle sue decisioni e in ogni momento della sua attività. È importante che il giudice offra di se stesso l'immagine non di una persona ostera o severa o di irraggiungibile rigore morale, ma di una persona seria, sì, di persona equilibrata, sì, di persona responsabile pure, potrebbe aggiungersi di persona comprensiva ed umana, capace di condannare, ma anche di capire. Chi domanda giustizia deve poter credere che le sue ragioni saranno ascoltate con attenzione e serietà, che il giudice potrà ricevere ed assumere come se fossero sue e difendere davanti a chiunque. Solo se offre questo tipo di disponibilità personale il cittadino potrà vincere la naturale avversione a dover raccontare le cose proprie ad uno sconosciuto. Potrà cioè fidarsi del giudice, della giustizia e dello Stato, accettando anche il rischio di una risposta sfavorevole. La credibilità esterna della magistratura, nel suo insieme e in ciascuno dei suoi componenti, è un valore essenziale in uno Stato democratico oggi più di ieri. Andrea Genna, il Presidente del Tribunale di Trapani, grazie non solo della sua presenza, ma anche della sua sensibilità, della sua attenzione istituzionale e umana verso Rosario Livatino, siamo davvero contenti poi di averla con noi. Quale luce di speranza accende per la magistratura, ma per tutta la nostra società, dopo più di 30 anni, l'idea e la vita di Rosario, l'idea del magistrato di Rosario Livatino e la sua vita? Sì, intanto buonasera e grazie al Presco per l'invito. Mi pare, diciamo, assolutamente opportuno fare una riflessione in questo momento storico dal punto di vista della magistratura e anche, come dire, dal punto di vista laico rispetto alla figura di Livatino è il rispetto al significato che la beatificazione di un magistrato pieno evento nella storia della Chiesa ha per l'ordinamento giudiziario. In un contesto storico nel quale forse mai così basso è stato il livello del prestigio della magistratura per tutta una serie di concause conosciute. Gli eventi di cui si è parlato, dei contatti atipici tra componenti del Consiglio Superiore e uomini politici che fanno dubitare della buona amministrazione della gestione della giustizia del Paese. L'uso, come dire, sbilanciato delle comunicazioni mediatiche per le informazioni del processo. I protagonismi di alcuni magistrati. L'uso a volte strumentale della comunicazione mediatica per raggiungere anche risultati di vantaggi personali. Tutti questi elementi valutati insieme hanno prodotto il risultato di offuscare molto l'attività di quei tantissimi, quella stragrande maggioranza di magistrati, sono 9.000 i magistrati in Italia, che in silenzio, riservatamente, con senso di responsabilità e svolgono il loro dovere di rendere sempre una decisione conforme al diritto. E quindi l'attualità del modello ligatino viene fuori con immediatezza. Cioè questa figura che declama, anzi, in questi interventi di circa 40 anni fa, quali sono i doveri deontologici che il magistrato deve osservare. La compostezza, la riservatezza, la capacità di ascolto, la capacità di ascolto prima di giungere la decisione, la capacità di percepire l'umiltà di essere pronto sempre a cambiare idea fino all'ultimo momento e poi il senso di responsabilità prima di giungere all'atto finale. Tutto questo espresso da Livatino in argomentazioni anche di carattere giuridico e tecnico di grande valore. Io ho letto questo intervento di cui si parlava fatto a Canicattine circa 40 anni fa e alcuni passaggi, alcuni principi che lui ha declamato in quell'intervento dopo tanti anni sono stati poi, si sono consolidati e confermati in pronunze di autorità giuridizionali di grande rilievo. per esempio quando in quell'intervento sottolinea la necessità che il magistrato debba essere distante dalle fazioni politiche e da qualsiasi cento di interesse. Ebbene, poi sono stati necessari 25 anni per giungere ad una sentenza della Corte Costituzionale del 2009, la numero 224, nella quale finalmente si è ribadito il principio che è soggettabile a procedimento disciplinare il magistrato che si inserisca in un'organizzazione politica e che svolga un ruolo di gestione di essa. E dice la Corte Costituzionale richiamando quasi come dire testualmente il messaggio di Rivatino che la distanza del magistrato dalla politica è un valore in sé perché tranquillizza il cittadino che la sua decisione non è dettata a ragioni di favore o di contrasto con una fazione politica. E poi c'è un altro passaggio sempre di questo intervento che mi ha molto colpito quando Rivatino sottolinea la necessità che nell'interpretazione della legge il magistrato sia intellettualmente onesto cioè che si sforzi di comprendere qual è la volontà del legislatore di percepire quale è l'interesse protetto alla norma. Principi e affermazioni e pensieri di una particolare profondità perché si ricollegano sul piano proprio dei principi costituzionali ad una garanzia che è data all'articolo 101 della Costituzione. l'articolo 101 della Costituzione ci dice che il magistrato è soggetto soltanto alla legge che vuol dire che non ci può essere alcuna autorità a lui superiore che gli possa dettare la decisione ma è soggetto alla legge quindi che vuol dire che deve leggere la norma deve cercare di capire quale sia il senso di quella norma e quale sia il risultato che quella norma vuole raggiungere e poi applicarla ecco perché le sentenze vengono pronunziate in nome del popolo italiano perché quando il giudice pronuncia la sentenza non fa altro che applicare quella volontà politica che è cristallizzata in una norma approvata da un Parlamento in cui sono i rappresentanti del popolo ma per fare questo per arrivare a questo processo di applicazione il giudice deve essere onesto intellettualmente e vent'anni dopo un grande giurista Gaetano Silvestri dice che proprio in questa operazione così delicata il giudice deve tenere fuori le proprie filosofie e le proprie credenze personali perché lì anche in questo passaggio si gioca il rispetto dei valori della Costituzione il rispetto dell'autonomia del giudice e della sua soggezione alla legge e quando il giudice invece si fa prendere dalle sue valutazioni di carattere personale allora tradisce i principi rispetto ai quali ha giurato e poi un altro passaggio ancora come dire di grandissima attualità quello che riguarda appunto le comunicazioni istituzionali dei processi è stato detto poc'anzi il Livatino rifiutava persino le interviste perché era in qualche modo disinteressato a qualsiasi logica di acquisire visibilità e attraverso la visibilità acquisire un consenso che magari potesse giocare successivamente magari che so per introdursi in politica e allora dopo anni di riflessioni su questo punto solo nel 2018 il consiglio superiore la magistratura ha fissato una raccomandazione delle regole da dare ai magistrati per comunicare diciamo i fatti che riguardano i singoli procedimenti anche sotto questo profilo come dire è veramente sensazionale pensare che 40 anni prima Livatino era riuscito a centrare quali fossero i doveri ontologici del magistrato e a comprendere come dal rispetto di quelle regole si giocasse la credibilità dell'intero sistema giudiziario della magistratura che non deve correre il rischio di essere considerata come a tutela di un proprio interesse corporativo o che soggiace a interessi di potere quindi grandissima attualità e come dire grande grandezza dell'uomo oltre che del magistrato dicevamo e ho detto poc'anzi questa immagine che viene fuori offuscata dall'amministratura però non deve trarre in inganno perché sono tantissimi i magistrati che lavorano in silenzio come si come sono tantissimi i magistrati che a proposito di lotta contro la mafia sono caduti sul campo tanti magistrati nemmeno conosciuti si pagava dei magistrati che sono morti in terra siciliana ricordiamoci pure di Giacomo Ciaccio di Giacomelli che morì pure nell'88 ed era pure lui un giudice della giudicante non dimentichiamolo magistrati i cui nomi non erano sulla bocca di tutti che non avevano visibilità mediatica e che hanno pure loro dedicato alla propria vita per questi valori altri due pensieri e mi taccio condivido pienamente anche questa scelta di ricordare attraverso la batificazione di Levatino che dietro le organizzazioni mafiose ci sta il male e che il cristiano il cattolico ma anche il laico appartenente alla società civile deve fare una scelta di campo e condivido pure quello che è stato detto molto meglio di me da chi mi ha preceduto che non basta mantenere un ricordo una memoria della persona o dei singoli fatti criminali noi dobbiamo noi parliamo di siciliani siamo siciliani noi dobbiamo fare uno sforzo uno sforzo ricostruttivo capire le ragioni per cui in questa terra nasce la mafia si consolida studiare le ragioni individuare anche le cause e poi dopo aver compreso quali sono le cause fa di tutto perché questo fenomeno che stiamo riuscendo ancora non è detta l'ultima parola ma dico ci stiamo battendo per per sconfiggi definitivamente ma dico occorre che anche la società civile i cristiani e poi presi in questo caso di fronte a un uomo che è il loro beato facciano la loro parte e fare la loro parte non vuol dire compiere gesti eroici vuol dire anche prendere le distanze da coloro che nella società civile si sa bene forse meglio ancora come giusto che sia che nei processi occorre un accertamento di verità processuale ma nella società all'interno della società si conoscono le figure che non operano tra virgolette lecitamente occorre procedere ad una emarginazione di queste persone e poi forse ancora di più noi abbiamo degli istituti per esempio come quello delle misure di prevenzione patrimoniale che comportano anche il sequestro e la confisca dei beni ai mafiosi poi c'è dopo un procedore di carattere molto lunghe la possibilità della gestione di questi beni e vi sono le amministrazioni giudiziarie che devono a questo punto come dire intervenire nel territorio mantenere l'economia mantenere l'occupazione ma per mantenere l'occupazione di queste imprese che ormai ritornano nella disponibilità della collettività occorre anche che la società civile faccia la sua parte cioè che richieda i servizi di queste amministrazioni cioè c'è c'è un giro virtuoso lo Stato prevede la possibilità che questi beni ritornano alla disponibilità della collettività poi la società civile deve fare la sua parte ecco concludo dicendo che solo in questo modo non lasciando solo alcuni organi investigatori o magistrati il compito di intervenire ma bisogna prevenire bisogna fare di tutto per sconfiggere definitivamente questo fenomeno solo così il sacrificio di questi tanti come come Livatino non sarà in vano e soprattutto per noi ci potrebbe essere diciamo la soddisfazione di poter assicurare ai nostri figli una vita in una società migliore grazie grazie presidente mi viene in mente un un'immagine che una volta il vescovo durante un incontro al carcere ci ha dato in mente in questi giorni di cattivo tempo perché il vescovo ci ha raccontato che gli avevano parlato dell'alluvione a Trapani del 76 e che gli avevano detto che ci sarebbe stato costruito un invaso per proteggere la città allora il vescovo parlando con i detenuti che erano tra l'altro anche detenuti della sezione a delegati che gli ha detto beh noi facciamo creiamo degli invasi per esempio in una città il carcere forse per proteggerci dal male ma dobbiamo ricordarci tutti anche voi che siete qua dentro ma è qualcosa che ci riguarda anche chi sta fuori che ciascuno di noi deve essere un invaso che protegge la società e la città dal male quando lei richiamava questo ruolo della società civile mi è venuto in mente queste immagini Salvatore Noscera Bracco a proposito di male a proposito di male il compito del magistrato è quello di decidere e decidere e scegliere scegliere è una delle cose più difficili che l'uomo è chiamato a fare ed è proprio in questo scegliere per decidere decidere per ordinare che il magistrato e soprattutto il magistrato credente può trovare un rapporto con Dio perché rendere giustizia è realizzazione di sé è preghiera è dedizione di sé a Dio ed è amore verso la persona giudicata non ci si può prendere veramente cura di qualcuno se non lo si ama se non lo si riconosce profondamente nella sua natura nella sua natura di uomo se non ci riconosciamo in lui noi stessi in quanto facenti parte nella sua stessa umanità banale senza consistenza e il male per questo terribile il male quanto più è banale banale senza consistenza e il male banale banale e il male cosa rimane cosa rimane della mia vita un ultimo istante una ferita da cui sgorgano parole che non sapevo più dire banale senza consistenza e il male per questo terribile il male quanto più è banale cosa rimane della mia vita un ultimo istante una ferita da cui sgorgano parole che non sapevo più dire partire partire verso un'oscura monotonia dimenticare chi amavo chi amo ma il mio sorriso non buttarlo via ma il mio sorriso Banale, senza consistenza il male, per questo terribile male, quanto più è banale. Il male è banale, la banalità del male, ci ha cantato Salvatore Nocera Bracco. Nella storia di Livatino, in questa vicenda così brutale, ci sono sempre due eroi, per quanto la postura di eroe certamente difficilmente può legarsi a quella di Livatino, che è proprio un antipersonaggio per Antonomasia. L'altro è il testimone di quell'omicidio che passava per caso quella mattina. Un gesto spiazzante, una variabile davvero imprevedibile, sia per gli uomini della Stigia, che certamente non pensavano, con grande spavalderia non pensavano che passasse qualcuno, probabilmente erano assolutamente sicuri, era il 1990, ce la ricordiamo com'era la Sicilia, che anche se fosse passato qualcuno non avrebbe certamente visto nulla. E' un gesto spiazzante quello del rappresentante di commercio, che passava sulla statale, che da Canigattia andava ad Agrigento, spiazzante anche per lo Stato, perché non esistevano testimoni di giustizia, di mafia, non c'era un metodo, un codice per sapere come comportarsi davanti alla presenza di un testimone. Ma anche in questo caso nella mancanza di una legge, la legge sui testimoni di giustizia viene approvata in Italia nel 2001, nella mancanza di un codice di comportamento subentra la buona volontà, gli uomini di buona volontà. In questo caso è un ispettore di polizia, quello a cui il rappresentante, il testimone dell'omicidio, Pietro Ivano Nava, si rivolge, fa la prima dichiarazione e che risolve la questione quando si diffonde la voce che Nava è in questura e quindi teme anche per la sua incolumità, nonostante si trovi in un centro, diciamo, delle forze dell'ordine. E allora anche qui l'ispettore gli apre le porte di casa, lo porta a casa sua e lo protegge e diventa il suo angelo custode. Questa storia è raccontata anche in libri, anche in alcuni film che sono stati fatti sul Pietro Ivano Nava, ma anche questa è poco conosciuta. L'ispettore era un trapanese, è il commissario adesso in pensione, è il commissario capo della Polizia di Stato in pensione, adesso è il comandante dei vigili urbani a Favignana, è il commissario capo dell'Io che invito qui, le porto la sedia, a salire con noi e a ricordare quei momenti, mentre Lorenzo Sanci, che dovrebbe essere qui vicino, ci legge uno stralcio della deposizione, non abbiamo qui la sedia Salvatore, della deposizione che Pietro Ivano Nava ha fatto davanti alla commissione parlamentare antimafia nel 2016. Sì, certo. In fondo la mia storia è abbastanza semplice, perché io sono passato dalla strada di scorrimento veloce, stavo andando piano perché avevo una gomma forata, ero stanco, non avevo avuto voglia di fermarmi da un gommista lungo la strada tra Enna e Villaggio Mosè, ho fatto una curva, un rettilineo e ho visto quello che voi sapete. Non c'è da meravigliarsi se la mia memoria è fotografica e se ho riconosciuto tutti i particolari, perché io facevo il direttore commerciale e per fare il direttore commerciale, come mi avevano insegnato gli imprenditori che mi avevano insegnato, a partire per esempio da Marcegaglia, nel nostro lavoro bisogna capire immediatamente com'è il cliente e stamparsi nella memoria tutto quello che fa, i movimenti delle mani, come tocca gli occhiali, tutto. Riconobbi la moto? Poi, nelle indagini, il giorno stesso la trovarono bruciata nelle campagne di Favara. Alla fine della testimonianza ho detto semplicemente avete il numero di telefono, sapete dove sono, quando avete bisogno di me mi cercate. Chiaramente mi hanno detto dove credi di andare. Ho risposto a lavorare. Non ti puoi più muovere, disse un funzionario di polizia, un ispettore. Da quel momento è cambiata la mia vita, da quel momento non sono stato più io, è stato difficile, si fa fatica a capire cosa ti succede. A un direttore commerciale suona il telefono tutto il giorno, agenti, rappresentanti, clienti. Il telefono viene invece immediatamente bloccato, non ricevi neanche una telefonata, non hai più la tua vita, l'hai persa. È chiaro che è stato difficile, è stato molto difficile, perché nel 1990 non c'era il servizio di protezione. Per me il cambio di generalità è stato traumatico, perché io ero famoso nel mio lavoro, mi pagavano un sacco di soldi per farlo, e invece dopo non puoi fare più niente, non sei più nessuno, non sei più niente. Con il mio nuovo nome, Chiero, ho letto qualcosa di Livatino. Sono molto credente anch'io come lo era lui. Ho letto che vogliono farlo beato, era una persona semplice, uno che faceva il suo dovere. La famiglia mi ha mandato ringraziamenti tramite la polizia, ho parlato una volta due minuti al telefono con il padre, che piangeva poverino. Mi ha detto grazie tante volte, ma non c'è da dire grazie. Perché ho fatto questa scelta? È semplice. Io ho avuto una famiglia che mi ha insegnato che devi avere senso di responsabilità, che quando tocca a te, tocca a te. Io non avrei più potuto né leggere un giornale né guardarmi nello specchio, se non mi fossi comportato così. Dalla testimonianza di Pietro Ivano Nava alla Commissione parlamentare antimafia 21 dicembre 2016. Credo che tutto il Paese abbia un grande debito di riconoscenza nei confronti di Pietro Ivano Nava. Commissario Dell'Io, è un piacere essere insieme questa sera. Ci racconti qualcosa di quella giornata dell'incontro con Nava Edri sul posto del delitto, tra l'altro, come funzionario della squadra mobile di Agrigento. Diciamo l'uomo giusto al posto giusto, Nava. Si trova a transitare occasionalmente sullo scorrimento veloce che il collega Caltanissetta Agrigento vede questi fatti che sono stati detti, cioè dire una Ford Fiesta sbattuta sul guarda rail, una Fiat Punto, una bicicletta con due soggetti che si agitavano, uno con il casco bianco, l'altro senza casco a viso scoperto, con una pistola in mano che insegue qualcuno perché scavalca il guarda rail, in questo caso il dottor Rosario Rivatino. Lui camminava 60 all'ora perché aveva una gomma bugata e quindi aveva il rotino. Quindi vede queste cose, continua a seguirle con lo specchietto retrovisivo e nel frattempo, dice qua, non è allora un incidente, tra l'altro premetto che lui aveva notato questa bicicletta ancora prima perché sul tragitto, nel tragitto, l'aveva praticamente soppassato, anzi rischiato di tamponare perché lui costretto a camminare piano, lo stavano sfrecciato, quindi l'aveva già attenzionato. Ovviamente l'immagine mette a fuoco qualcosa di confuso, ma è un incidente straordinario perché usano la pistola e chiama il 113 della questione del vigento. E non riesce a parlare bene perché allora non c'è una telefonina, c'è il radiotelefono, ma riesce a dire incidente, Ford Fiesta, ragazzo con pistola. Quel giorno noi eravamo tutti riuniti dal dirigente, il dottore Gucchiara, perché avevamo un briefing mattutino, avevamo avuto due stragi a Porta Empedove, quindi tra l'altro io ero il responsabile del siano amicidi, quindi ha maggior ragione. Quando Gucchiara risponde al telefono e dice a voce alta, Ford Fiesta? Un ragazzo con pistola? Cioè ci siamo guardati, non ci siamo manco parlati, siamo scappati tutti fuori e abbiamo trovato quello che abbiamo trovato. Mentre ero là, mi raggiunge un commerciante di Porta e Blindate, dove questo Pietro Nava, il testimone, che lo riforniva a lui praticamente, era un rappresentante di commercio. Mi dice guarda che c'è quello che è chiamato il 113, che vuole parlare con qualcuno, vuole parlare con te, perché io conosco te, mi fido di te e voglio parlare con te. Ci parlo, mi dice guarda che ho visto tutto, non sapevo se ero un mitomane, se una persona. Lo metto nella macchina di polizia e faccio qualcosa che è fuori, non è rituale, non lo porto in questura. Me lo porto nel negozio di questo commerciante per metterlo più a suo agio, perché le prime dichiarazioni, e lei me lo può insegnare, quelli che cristallizzi all'inizio sono quelli importanti che perdurano anche per un processo. Quindi lo prendo la verbale, facciamo tre o quattro pagine di verbali. Il Nava era un amatore di maciclette, di macchine, quindi riuscì a dirmi addirittura alla manopola dell'acceleratore che colore era. Finito il verbale, Pietro Nava mi dà la mano, mi concedo, è stato un piacere, non ci siamo. L'HP che iniziò il suo pellegrinaggio, tutto quello che poi ha subito, proprio per l'assenza di questa normativa, di questa legislazione, che prevedeva anche una tutela, anche economica, perché poi lui persa anche il lavoro. Comunque lo portò in questura, la venne anche il giudice Falcone, fu sentito, risentito, rinterrogato molte volte, grazie all'ausilio dei colleghi di Catania, arrivò la scientifica, fece le 20 kit, già delle 20 kit iniziamo ad avere qualche idea, e poi si fece sera, quindi l'alternativa era andare a dormire in albergo. In albergo lui non voleva andare, dice dormo su un divano quest'ora. In quelle ore mi ero reso conto, ho venuto a che fare con un gran duomo. Mi diceva Gino, quando tocca, tocca, perché poi quasi subito dopo da lei passa mal tu. Ho detto che significa, è una cosa che mi diceva sempre mio padre, quando ti tocca, ti tocco, io devo fare il mio dovere e devo dire tutto quello che so. E quindi gli offri di dormire a casa mia, io avevo un alloggio di servizio, ma più che dormire abbiamo parlato, poi ci fu uno scambio informativo fra me e lui, lui mi parlò della sua famiglia, gli parlò della mia famiglia, lui mi chiese ma sto lavoro ti piace, ma la tua famiglia che dice? Certo, guarda, a me la propria nasce, mi vado un ex carabiniere, quindi diciamo non ho problemi. L'indomani, in quest'ora nuovamente per la conferma delle sue dichiarazioni, si fece a sera, lo staffettai, lo accompagnai fino a Caltanissetta, perché poi nel frattempo arrivò un altro suo angelo custode, che è il commissario Natella, che se lo seguì in giro per l'Italia, a Caltanissetta scesi dalla macchina, ci abbracciavano in maniera molto forte, e in quell'abbraccio c'era tutta una conversazione, forse, che non finiva mai, e poi non lo vidi più. A distanza di un mese, lui aveva il mio diretto telefonico in ufficio, mi telefono e mi disse, ciao Gino, come stai? E capito che era lui. E fu l'ultima volta che l'ho sentito, insomma, poi non ho avuto più su una notizia. L'ho letto ora nel libro e se mi dovesse sentire lo ringrazio, perché mi ha dedicato, nel libro ho scritto lui, oltre un centinaio di pagine, insomma. Sì, è anche lui infatti che proprio definisce, definisce il suo angelo custode. Per chi non l'avesse mai letto, faccio un po' di pubblicità, però davvero i libri, l'ultimo si chiama Io sono nessuno, con la storia di Pietro Nava davvero vanno letti. C'è un romanzo di Sciascia, che penso tanti conosciamo, che è una storia semplice, no? È l'ultimo proprio, è il direttore artistico della storia degli scrittori. Mi aiuta in questo. Non so se voi lo conoscete, hanno fatto anche un film, forse i più giovani sicuramente, magari non lo ricordano. Non racconto la trama, però c'è un personaggio in questo racconto, polemico, diciamo in questo giallo polemico di Sciascia. Il personaggio è un rappresentante di commercio con una Volvo, che viene chiamato perché incontra delle persone sulla... c'è un semaforo del treno bloccato, gli chiedono di andare alla stazione ad avvertire il capo stazione, lui si presta per senso civico a fare questa cosa, poi riprende il suo lavoro, poi sente dalla televisione che hanno ucciso il capo stazione, quindi si presenta spontaneamente per senso civico in questura, e gli fanno, lui dice che, insomma, ha parlato col capo stazione, gli dicono che è stato ucciso, gli fanno vedere una foto, lui non riconosce, insomma, in via preventiva viene accusato dell'omicidio. La storia è molto complessa, poi alla fine lui viene scagionato e proprio appena viene libero incontra per caso una persona e si ricorda di averlo visto, tra l'altro un prete, e riconosce quindi l'assassino del capo adreno. Solo che a quel punto fa una valutazione. Dice, ma chi... non intendo, quindi proprio c'è la scena che lui sta per tornare in questura, invece, tra l'altro nel commissario era pure implicato in questo sistema, ricordava il furto di un'opera d'arte, e Sciascia si ispira al furto della natività di Caravaggio, torna indietro e dice, ma chi me lo fa fare, appunto? E quindi finisce così, con questa frase amarissima. Pietro Nava, in qualche maniera, ribalta questa storia sciasciana, siamo a pochi chilometri, ecco, e come diceva Don Licciardi, Livatino riscatta la Sicilia, in qualche maniera anche Nava, che però non è siciliano, anche se viveva al sud, ci riscatta perché la sua esperienza è davvero dura, difficile, non ha potuto partecipare manco ai funerali del padre, al matrimonio della famiglia, in questo senso abbiamo un grande debito come italiani e come siciliani. Salvatore, l'ultimo pezzo prima di ascoltare il Vescovo. Almeno, tra adesso sì. Immaginate, tutte queste cose, insomma, noi le sappiamo, abbiamo fatto un sacco di spettacoli. Uno lo abbiamo, siamo venuti a farlo anche a Trapani qualche anno fa, il mio piccolo giudice si chiamava, con l'arrangiamento degli avion travel, insomma, una cosa bella. Io ho sempre immaginato la madre, che ho conosciuto nel 1995 nella chiesa di San Giuseppe a Canicattì, durante una di queste commemorazioni, però per fortuna lontano, dai mass media, la madre. Un'altra, 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 un'altra. E lo posso mangiare una piccola, piccola mia, come faciste quando mi calo l'uomo, quando mi calo l'uomo, potete trovare sti un. che bello stu, caro, quanto è peggio, lulù, si mangia la piccola, l'odore è pungente di questa nostra terra bruciata dal sole del giorno, notte non dai consolazione a questa assura opprimente, non c'è acqua che ci tolga la sete, e non c'è niente nei pozzi dissecati delle nostre illusioni, di questa nostra vita che sgorga da una morta sorgente, come gli occhi di una madre, muta e piangente, e senza più lacrime, sul figlio ucciso innocente, non c'è pane che ci tolga la fame, e non c'è niente, non c'è ancora niente, per la nostra gente, e cammina finalmente, cammina lupi in serie, con l'acqua che scurre a picca picca, le parole arrivano vicini, le sentonetti, come stare a leggere a leggere, cammina con moglie, come la voce di una bicchiaredda che canta, lo suo figlio lì, d'un gizzi di la vita, che ancora va a fare, va a sonnare, va a chianare in capo l'albero di la vita, come la voce di una bicchiaredda che canta, a lolo, a lolo, a lolo, a lolo, che bella sta carosa, quant'è bella, a leggerà, lullù, si mangia, la picuretà, Grazie a tutti. Sembra che non pianza perché gli si seccarano le lacrime. Eccellenza, lei concludere. C'è una sofferta ma gioiosa emozione che provo questa sera qui dopo aver ascoltato quello che tutti abbiamo ascoltato. Ed è questa, Livatino è figlio unico. Noi stasera ci siamo candidati ad essere fratelli suoi, tutti fratelli suoi di un'unica grande famiglia che vuole credere a tutte le cose per le quali egli è vissuto, sia come uomo che come professionista, come magistrato. Ricordo, e mi rimase molto impresso, nei primi tempi che ero qui in Sicilia, Don Giuseppe Licciardi propose alla pastorale vocazionale la tappa a Canicattì per conoscere il beato Rosario Livatino, allora non beato. E mi chiedo questa sera quali sono i fili anche della provvidenza, questa tessitura di fraternità con i martiri della nostra terra, perché Livatino, come è stato detto, non è l'unico. E allora noi vogliamo veramente sentirci fratelli e sorelle di tutti coloro che hanno vissuto fino in fondo la virtù della giustizia, come diceva poco fa Don Giuseppe, di tutti quelli che appartengono, direi, a una grande schiera di magistrati onesti, lavoratori della giustizia, persone che fanno grande il nostro Paese come Paese del diritto e non Paese della prevaricazione. Noi abbiamo bisogno di continuare a credere a questo. Direi anche ben oltre i confini di quella, diciamo, idea di giustizia che forse troviamo fuori del nostro Paese e che non ci appartiene, perché la nostra giustizia è fondata non soltanto sulle radici, diciamo, romane del diritto, ma anche sulle radici cristiane. Mi sono lasciato prendere, vedete, dalla preghiera che la Chiesa oggi propone per la memoria liturgica e se stiamo qui è perché abbiamo voluto fortemente sottolineare questa, non lasciar passare una data del genere. Ringrazio tutti, a partire dal Presidente del Tribunale, per averci incoraggiato, insomma, in questa cosa che stiamo qui vivendo. La preghiera della memoria liturgica dice che Dio ha fatto risplendere tra noi la testimonianza di fede di Rosario Angelo Livatino, operatore di pace e di giustizia sino al martirio. E a lui, a Dio, chiediamo anche a noi, sul suo esempio, di porre sotto la tua tutela le nostre azioni per avere in eredità il Regno dei Cieli. È un po' una sintesi di alcuni dei temi più importanti che abbiamo sentito, che hanno riempito questa serata. E credo che sia utile, importante, riprendere poi questa colletta. Nel linguaggio ecclesiastico la colletta non è la raccolta del denaro, ma è quella raccolta di tutte le intenzioni umane e cristiane che ci portano a stare insieme nella preghiera. Io mi auguro che questo possa essere continuato da ciascuno di noi nel proprio vissuto quotidiano. Poi c'è un'altra sottolineatura che vorrei fare, mentre davvero ringrazio tutti. Vorrei idealmente ricollocarmi con voi nella cattedrale di Agrigento, nuova, resa bella, da tanti anni di lavoro, di restauro, eccetera, che il 9 maggio scorso ha brillato di una luce diversa, di qualche cosa che, vedete, ripaga sia il senso umano sia il senso cristiano del martirio. Quando il cardinale Semeraro diceva che essere cristiani non è più qualcosa di scontato e diventa anzi cosa scomoda, schernita, rischiosa, pericolosa. Ecco, forse questi quattro aggettivi dicono una sequenza di cui non possiamo fare a meno di essere consapevoli, anche noi, dovunque ci troviamo, qualunque sia il nostro impegno nel mondo. Noi, se vogliamo veramente vivere, accogliere e vivere questo senso di fraternità che ci dona Livatino, dobbiamo prepararci a esperienze scomode, schernite, rischiose, pericolose. Ma siamo sicuri che tutto questo poggia, diceva proprio l'introduzione dell'Omelia del Cardinale, poggia sul concetto stesso di santità. La santità è rimanere nell'amore di Cristo. La santità è qualcosa che è donata e che tu, senza gesti clamorosi, senza miracoli particolari, soprattutto senza questa, direi, miserevole abbandono alla pubblicità e alla visibilità, la santità è proprio questo, rimanere nell'amore di Cristo, perché la radice, come ci ha detto poi Don Licciardi, del lavorare per la giustizia è proprio in questa capacità di amare, amare Cristo e amarlo nelle persone più umili, più poveri, anche in quelli che non hanno una consapevolezza della loro dignità e diventano schiavi di sistemi di schiavismo che esistono nel mondo. Ogni tipo di sistema che schiavizza. A questo proposito vorrei dire, proprio nei giorni scorsi è stata risanota una testimonianza di un poliziotto calabrese di 42 anni, penso a Livatino che ha scritto quelle cose a 32 anni e a 34 anni, queste cose che abbiamo letto di altissima densità umana e cristiana, professionale e spirituale. Questo sacerdote, questo poliziotto calabrese, dice di sé di essere stato un poliziotto inflessibile, però poi dopo è arrivata nella mia vita la misericordia e il mio dovere ho cominciato a farlo guardando il colpevole con occhio diverso. Che non vuol dire sottrare le responsabilità della persona, ho cominciato a guardarlo come un fratello da aiutare, da redimere. Insomma il volto di Dio è piano piano passato nel mio mestiere, perché stavo imparando a guardare con gli occhi stessi con cui quel volto guardava me. Cominciavo a vedere il volto di Gesù nel volto del fratello. E' interessante, questo che poi si è messo a studiare teologia, è entrato in seminario e nel 2017 è diventato prete, ma prete che ha fatto una scelta un po' atipica, eremita, sui monti del Pollino in Calabria. Mi dicevo io, allora questa sera, cercando di concludere, rimanere nell'amore o attingere pienamente l'amore, che cosa significa? Da un lato vivere fino in fondo la vocazione a un lavoro nel cuore delle difficoltà, nel cuore delle complessità della vita sociale e anche dall'altro lato sostenere il cammino di tutta la società e di tutta l'umanità in questo rapporto che solo gli eremiti possono avere, che è un rapporto di contemplazione, di alimentazione continua di questa sorgente di amore. Questo poliziotto diventato prete dice di averlo trovato nell'Eucarestia, ma anche Livatino ha trovato nell'Eucarestia la sua identità e la sua forza. Quindi concludendo, io vorrei dire veramente grazie a tutti coloro che hanno collaborato a questa serata che intreccia fili di speranza un po' in tutta la nostra società trapanese e siciliana e umana in generale. Vorrei dire grazie, non posso nominare forse anche quanti non sono potuti intervenire, penso a questo giovane che si incammina sulla via della magistratura che doveva venire da Avola e non se l'è sentita perché la situazione climatica è terribile e noi gli abbiamo detto grazie comunque e sappiamo che sei unito a noi e questo è per me anche un'occasione per dire tutto il nostro affetto e la nostra solidarietà alla Sicilia orientale. Ma dall'altro lato, ecco, vi dicevo non possiamo non ringraziare veramente tutte le istituzioni che si sono presenti e quelle anche che si sono fatte sentire perché non potevano essere presenti. Concludiamo proprio con quelle parole che già sono state citate del giudice Livatino nella relazione che ha fatto su fede e diritto nell'86 quando dice ed è proprio in questo scegliere per decidere decidere per ordinare l'hai cantato tu, grazie che il magistrato credente e il magistrato non credente lui ha veramente i polmoni vorrei dire aperti all'una e all'altra situazione sapendo che entrambi concorrono al bene della società e anche alla gloria di Dio io dico qui. Magistrato credente nel fare questo lavoro di scegliere per decidere decidere per ordinare può trovare un rapporto con Dio un rapporto diretto perché il rendere giustizia è realizzazione di sé è preghiera è dedizione di sé a Dio un rapporto indiretto per il tramite dell'amore verso la persona giudicata quindi alla fine egli dice il magistrato credente è chiamato ad amare la persona che giudica ed è in questo modo che vive proprio tramite questo amore vive il suo rapporto con Dio il magistrato non credente sostituirà il riferimento al trascendente con quello al corpo sociale con un diverso senso ma con un uguale impegno spirituale io credo che se a 34 anni si potevano scrivere certe cose forse anche proprio perché c'è stata una educazione si è detto e stasera noi possiamo e dobbiamo prendere tutti questo impegno perché quello che abbiamo fatto ha un valore pedagogico altissimo vorrei sostenere incoraggiare tutte le scuole del nostro territorio che continuano a presentare nei linguaggi adatti ai nostri ragazzi alle diversi ordini di scuola a presentare questi direi alti testimoni della fede nell'uomo e della fede in Dio io ho finito a te Lilli grazie particolare prima di salutarci questa sera il Vescovo benedirà l'immagine di Rosario Livatino che ci ha fatto compagnia sul palco e questa immagine sarà resa pubblica esposta alla pubblica venerazione il giorno di tutti i santi è il nuovo beato nella chiesa di San Pietro che tra l'altro è la chiesa vicino al tribunale quindi presidente in qualche maniera è certamente la chiesa che è fisicamente vicino a tutto il mondo della giustizia degli operatori della giustizia quindi è un bel segnale anche la chiesa più antica della città quindi se il parroco ci raggiunge qui Don Giuseppe Bruccoleri procediamo con questo momento e poi concludiamo con il tuo pezzo ci mettiamo in piedi o Dio fonte di ogni grazia e santità guarda con amore i tuoi fedeli che hanno preparato questa immagine del beato Rosario Angelo Livatino amico ed erede di Cristo fedele testimone del Vangelo della nostra società donaci di sperimentare l'efficacia della sua intercessione presso il trono della tua gloria e nel cammino di civiltà del nostro territorio per Cristo nostro Signore il Papa fa fare un applauso tutte le volte che proclama un nuovo beato eccoci grazie allora grazie davvero a tutti per la vostra partecipazione i ragazzi del servizio civile riceveranno dal vescovo un messaggio del Papa nel nome di Rosario Livatino Salvatore concludi tu scrivendo tanto su Livatino parecchi anni fa ho avuto questo insight una preghiera che forse mi ha suggerito proprio Livatino ma non per lui per la Sicilia se ci sei ti prego Signore salvaci con la tua misericordia guarisci le nostre ferite che ancora zampillano di sangue e fanno male se ci sei ti prego Signore fatti sentire fatti toccare da noi che nemmeno avvertiamo il nostro peso sulla terra se ci sei ti prego Signore ascolta questo anonimo canto di chi ti chiede un altro po' d'amore di chi non vuole ancora un altro pianto ascolta questo anonimo canto di chi ti chiede un altro po' d'amore di chi non vuole ancora un altro pianto ascolta questo anonimo canto di chi ti chiede un altro po' d'amore di chi non vuole ancora un altro pianto Salvatore Nocera Bracco buona serata a tutti